altri la ricordano il coma non mi ha cambiato in nulla è come se mi fossi addormentato 20 giorni fa e risvegliato 20 giorni dopo nulla è cambiato commento invece ti ha cambiato la vita nel piano astrale durante il coma tu non la ricordi altri la ricordano dipende dall'evoluzione per adesso hai imparato che non sei solo mente